E crescono le fibrillazioni politiche nella maggioranza consigliare di Campobasso. C'è chi continua a chiedere il cambio di alcuni assessori. Lo scontro verbale tra il sindaco di Campobasso Antonio Battista e l'assessore al commercio Salvatore Giovanni ha portato allo scoperto le rotture che si hanno nella maggioranza politica a Palazzo San Giorgio. Rotture d'onor del vero che non sono di oggi ma che provengono dai mesi passati quando più volte alcuni consiglieri di maggioranza hanno chiesto al sindaco Battista di azzerare la giunta. In maniera particolare nel mirino sono finiti alcuni assessori che a detta dei consiglieri non avrebbero garantito quelle attività programmatiche per la città finendo con l'appesandire la già delicata situazione. Nel mirino politico erano finiti gli assessori Maio, Chierchia, De Bernardo e De Capua. Quest'ultima si è presentata di missionario risolvendo la questione anche se non è stata ancora sostituita e nel momento in cui si procederà chi ricoprirà l'incarico si troverà il cartellone degli aventi già compilato. Nell'ultimo consiglio comunale ricordiamo è stato il consigliere comunale del PD Pino Libertucci a tornare a ribadire la necessità di un rimescolamento delle carte in giunta anche se forse si arriverà troppo tardi rispetto alla scadenza amministrativa del prossimo anno. Una città a Campobasso che è rimasta impantanata è che non è riuscita a trovare programmi, azioni e strategie capaci di rilanciarla. Le frizioni in maggioranza ora rendono ancora più problematiche le azioni da mettere in campo nell'immediato mentre si scivola verso il rinnovo amministrativo.